Buon Natale ai nonni che hanno sofferto per noi, Buon Natale ai bambini per i piccoli eroi, Buon Natale davvero, per un mondo migliore, sempre in cerca d'amore. È un messaggio di auguri e di speranza, quello lanciato con il Natale 2020, il singolo realizzato da Officina della Musica è uscito su tutte le piattaforme social. Il brano, che vede la partecipazione di artisti locali, è curato dal musicista Peter Barattini, autore del testo e della musica. Il video invece è stato montato da Alberto Tallevi. Il progetto nasce verso la fine di agosto, quando Peter mi chiama e mi fa sentire questo brano per invogliarmi a procedere al progetto. Il brano ovviamente parla di questo terribile virus che ha colpito tutto il mondo. È stato un piacere e un onore avere la collaborazione di amici artisti fanesi che sono qui con me, per dare un segnale di speranza, di pace, di serenità per questo Natale che è così strano. Io mi sono commossa. L'idea con Cristian di fare un lavoro a due era molto riduttivo e quindi si è pensato di coinvolgere più persone possibili, più artisti possibili, tutti del territorio. Quindi Peter dell'Officina della Musica, Cristian Mattioli, Davide Macchioli della Repubblica Ceca, Alessandro Mei, Luca Vagnini, Claudio Morosi, il maestro Claudio Morosi, Caterina Di Placido e Lele Ferri. L'abbiamo registrata qua, ognuno con il giorno preciso, grazie a Lele Ferri. E poi abbiamo confezionato un video da remoto perché non si poteva tutto insieme per via dei colori arancioni di questo periodo. Il brano che sta riscuotendo un grande successo è arrivato anche nelle scuole di Fano. In questa canzone ci ha fatto piacere perché dopo qualche giorno siamo stati contattati da una scuola elementare, la Corridoni, precisamente la terza A della scuola elementare Corridoni dalla maestra Romina Alesiani che aveva piacere appunto di proporre ai suoi ragazzi questa canzone da poter cantare per il periodo di Natale. È un'iniziativa che è nata con questo scopo e quindi siamo molto contenti che insomma il messaggio sia arrivato anche con i bambini e dare un piccolo regalo anche a loro per vivere questo Natale un pochino più serenamente. La filosofia di questo brano è partita proprio dal fatto della semplicità, cioè io come in veste di co-arrangiatore ho voluto apportare la mia musica donando alla gente una cosa molto semplice come un abbraccio. Quindi questo brano nasce proprio per dare un abbraccio alle persone che l'ascoltano in maniera semplice come lo è stata composta.